Con questo video tutorial vediamo come compilare il modello B per la scelta delle istituzioni scolastiche per le gradatorie di istituto di prima fascia, cioè quelle gradatorie riferite a coloro che sono inseriti in GAE e fanno la scelta delle scuole per ogni singolo istituto. Andando a compiladomanda e facendo clic su compiladomanda entriamo in un'altra area, sarebbe l'area dell'acquisizione della domanda. Intanto si sceglie la provincia che deve essere riferita alla provincia in cui l'aspirante risulta presente nelle GAE. Si sceglie la provincia per esempio quella di Reggio Calabria. Si fa clic sulla provincia di Reggio Calabria e si va avanti. Appunto facendo avanti si entra nelle aree anagrafiche della domanda per ben due volte in due aree separate anagrafiche. Facendo ancora avanti si entra proprio nell'acquisizione della domanda. La seguente lista mostra gli insegnamenti da scegliere per la partecipazione alle gradatorie, ovvero sia dove si è inseriti. Si clicca su questa opzione e si fa di nuovo avanti. Entrando nell'area dove si possono scegliere proprio gli istituti. Inserisci per esempio il nuovo istituto facendo clic su questa icona. Si entra a scegliere il comune. Per esempio scegliamo il comune di Reggio Calabria. Si seleziona il tipo di istituto, per esempio un istituto comprensivo, e si fa cerca istituti. Arriveranno tutti gli istituti riferiti agli istituti comprensivi della città del comune scelto. In questo caso si era scelto per errore polistena, ma si può scegliere tranquillamente Reggio Calabria e cercare gli istituti sul Reggio Calabria. Ecco, tutti gli istituti della città di Reggio Calabria che si possono selezionare uno alla volta, indicando anche se si vuole fare supprensa inferiore a 10 giorni. Si clicca sì. Si inserisce così l'istituto che viene inserito a sistema. Eccolo inserito a sistema. E così via tutti gli altri istituti per un massimo di 20 sedi, che è il massimo delle sedi esprimibili. Ricordiamo che possiamo anche scegliere per cinque istituti comprensivi e due circoli quelli di supprensa inferiore a 10 giorni. Speriamo che questo video tutorial sia stato chiaro per i nostri lettori che vorranno fare questa domanda. Arrivederci a tutti.